Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo appuntamento su Pokémon versione Earth Gold Siamo qui davanti a Pino, l'abbiamo sconfitto nello scorso episodio E oggi siamo pronti per andare avanti, per barcare quella porta che ci porterà dal secondo Super 4 Andiamo subito Eccoci qui in questo ambiente molto diverso rispetto al precedente E qui c'è un tizio che in realtà da questo sprite sembra in smoking O meglio, sembra vestito elegantissimo, ora vedremo nel dettaglio chi è Ma prima sistemiamo un pochettino la squadra O meglio, cambiamo un po' l'ordine Mettiamo per primo Eruption Perché oggi sarà importantissimo il suo apporto Ok, siamo pronti per sfidare questo secondo Super 4 Pronti, via Ok, inizia con una risata, benissimo, sei simpatico Sono Koga, dei Super 4 Sono un ninja moderno e vivo nell'ombra Il mio stile ti confonderà distruggendoti Confusione, sonno, veleno Ti distruggerò con le mie infide tecniche Con i Pokémon la forza brutta non basta Ora te lo dimostro E dimostramelo, mio caro Koga Prima, se vi ricordate, nella prima gen, o meglio, accanto Koga era solamente un capopalestra Quindi diciamo che ha fatto esperienza E è stato promosso a uno dei Super 4 Ci manda in campo Aria ad osso per primo a livello 40 E noi per questo abbiamo messo Eruption Quindi possiamo andare subito di lava sbuffo E dovremmo riuscire a mandarlo K.O. senza troppe difficoltà Ok, il primo è andato Grande Eruption, benissimo Ok, ok, ok Benissimo, la prossima scelta sarà Forretress Non capisco il motivo Però manda in campo Forretress E allora noi continuiamo di lava sbuffo Ragazzi, siamo giunti finalmente alla Lega Ragazzi, ancora io non ci posso credere È stato un let's play incredibile Mi è piaciuto davvero tantissimo Ancora non è finito Abbiamo, abbiamo Ancora abbiamo una sfida molto importante davanti a noi Però già siamo contro Koga, ragazzi Siamo contro Koga Ok, ci manda in campo Mack Non cambiamo a Pokémon Lasciamo Eruption Vediamo un po' quanto riesco a togliergli di vita con un altro lava sbuffo Vediamo un po', vediamo un po' Ok, vai, 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 vai Ok, benissimo Lo scottiamo, grande Ci utilizza Stridio Meno male che non ha utilizzato minimizzato Perché questo Mack utilizza per l'appunto minimizzato Però ha fangopece, ok Soffre per la scottatura Ho detto benissimo per la scottatura Proprio per questo Perché se avesse iniziato a utilizzare minimizzato Magari lo colpivo di meno Anche se Eruption ha comete Ok, altro Stridio Ha pochissimi punti vita E la scottatura dovrebbe mandarlo giù Però ora dobbiamo switchare Eruption Perché ha praticamente la difesa bassissima Vediamo se riesce la scottatura a mandarlo giù Esatto, benissimo Mack è andato Vediamo un po' adesso chi ci manda, ragazzi La prossima scelta sarà Crobat Benissimo Ottimo, perfetto Koga sei finito tu nella mia ragnatela Perché volevo proprio questo In modo tale da switchare e mandare la net Sono sempre il superiore come tipo E in più ho tolto Eruption Che aveva la difesa abbassata Grande Koga, veramente Sei uno stratega Ok, lui utilizza doppio team Lui utilizza doppio team adesso L'elusione sale Perfetto, benissimo Lo colpiamo con Scarica Dovremmo riuscire a mandarlo Keio Dato che Scarica è bella forte Ed è super efficace Quindi vediamo Keio Brutto colpo addirittura Credo che non servisse comunque Però vabbè Un brutto colpo fa sempre bene Fa sempre piacere avere la fortuna Dalla propria parte Comunque la net sarà livello 47 Drake riceveva anche un bel po' di punti Venomoth Allora, per Venomoth Direi che posso rimettere Eruption Per non far stancare troppo la net Direi Ok, mettiamo Eruption È l'ultimo Ragazzi, è l'ultimo Quindi ci siamo quasi Stiamo andando benissimo Il mio ultimo Pokémon Neanche lui ci crede Tanto è su questo qui che puntavo tutto È proprio su questo sbagli Mio caro Non è che devi puntare tutto su un Pokémon Devi avere un bel team Come ce l'abbiamo noi ragazzi Fatemi sapere anche se vi piace Questo team della Lega E intanto ragazzi Finalmente abbiamo sconfitto Anche l'ultimo Pokémon di Koga Quindi Alla grande Abbiamo avuto la mele su Koga Ah Mi hai mostrato quanto vali E prendiamo anche un bel po' di soldi Benissimo Ti ho attaccato con tutte le mie tecniche Ma è stato tutto inutile Dovrò perfezionarle Vai alla prossima stanza E metti alla prova le tue capacità Ok Abbiamo sentito che la porta si è aperta E infatti Qui davanti possiamo proseguire il cammino Mentre da questa parte La porta si è chiusa Appena noi siamo arrivati Guardate quanto sembra elegante lui Non sembra con una Com'è che si Non è una divisa Però vabbè Non sembra un ninja Sembra pronto per andare a un matrimonio Non lo so Comunque ragazzi Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel like E lasciatemi un bel commento Con tutto quello che vi ho chiesto in questa puntata Ovvero Se il team vi piace Se Koga vi sembra da matrimonio E tutto quello che volete Ragazzi Mi raccomando Non perdete il prossimo episodio Perché continueremo la sfida Contro i super 4 della lega pokemon E poi Infine Sfideremo il campione Sempre se ci riusciamo Sempre qui Su pokemon Earth gold Un saluto a tutti quanti Al prossimo appuntamento Ciao a tutti ragazzi Ciao 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 Ciao